Milena è una metafora per il suo paese, la Serbia, perché quello che pensa lei è che il suo paese ama, così come Milena, stare sotto protezione, sotto protezione di uomini potenti, soprattutto uomini, che si prendono cura di tutto e quindi la responsabilità non è loro, è altrove. E questa è una vita da sogno, perché appunto vivi una bella vita senza responsabilità. Io amo la protagonista come amo il mio paese, però penso che si dovrebbe svegliare, ammettere i propri errori, capire, anche se è molto duro ammettere i propri errori e di aver fatto cose terribili, però questa è l'unica cosa che ci permette di andare avanti. E' anche se non è qualcosa che dovremmo essere orgogliosi, ma dovremmo continuare con le nostre vita e accettere i nostri errori e accettere quello che succede.